Hello, hello, welcome, welcome, welcome back! YouTube Community Elena Tiona e Healthy Life Coach Bentrovati a tutte le persone che si sono appena iscritte, agli abituati, ai membri Bentrovati anche per questo nuovo video direttamente con me come state insomma a giudicare dai nuovi commenti mi sembra che siate facendo ottimi progressi e spero quindi che questo nuovo video vi trovi bene e carichi di assunti che vanno nella direzione dei vostri sogni, ho corso ovviamente. Oggi voglio condividere con voi, con te, tre modi potenti per manifestare contatto della tua persona specifica oltre a le meditazioni e le pratiche che ho già condiviso qui su YouTube, che trovate nella playlist dedicata alla PS, la trovate linkata qui sotto e nella tab playlist e per approfondire la connessione della tua PS con te. Ok? Prima però di addentrarci nel vivo del tema di questo video, as usual, come sempre, se intanto ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti un like al video e attivati la campanellina delle notifiche in modo che resti aggiornato a giornata con ogni nuovo caricamento e qui sotto nella box info in descrizione trovi anche il canale YouTube, trovi anche il canale WhatsApp e Telegram. Tante volte YouTube si scorda di inviare le notifiche. Io, membro del mio staff, sempre condividiamo tutte le news anche lì e la nostra nuova fantabombastica newsletter gratuita dove potrai scaricare anche il rituale per il nuovo anno gratis. Ok, ho alcune notizie oltremodo interessanti per te. Oltre tutto questo ti ricordo che le iscrizioni al mio corso incantesimo, alla mia masterclass per manifestare la tua migliore relazione con la tua persona specifica sono ancora aperte ed è un programma trasformativo progettato per aiutarti a svelare segreti per manifestare la migliore relazione con la tua persona a dei contenuti incredibili che non troverai altrove. Di approfondimento, di lavoro con le tue emozioni, di lavoro con lo spiraling, di lavoro con il tuo perché più alto che va molto molto più in profondità. Quindi se sei un membro e hai seguito la sfida da 25 giorni per manifestare la tua persona specifica andremo molto più in profondità sulla scia, sull'onda di quei temi. Coltiviamo l'amore, rafforziamo il legame ai livelli corretti, mi sento di dire. Una cosa che ti aiuta è a comprendere che è un percorso unico che mette insieme diverse componenti e la base naturalmente è la stabilizzazione emozionale. Ok, detto tutto questo esaminiamo questi tre potenti modi per manifestare contatto da parte della tua persona specifica. Uno, visualizza e senti, senti la connessione con la tua persona. Quindi prenditi qualche istante, ogni giorno, quotidianamente, più volte al giorno se è possibile, se ti è possibile, se ti è possibile, perché lo vuoi, per entrare in profondità dentro di te. Se vuoi puoi chiudere gli occhi per diminuire le distrazioni. Puoi utilizzare una delle mie meditazioni qui su YouTube e visualizzare te stesso e te stessa mentre sei impegnata, impegnata in tante, tante bellissime conversazioni significative con la tua persona. Sicuramente percepirai degli stati d'animo, delle sensazioni corporee di un certo tipo, emozioni, significati e l'eccitazione e la piacevolezza che derivano dal sommergerti, dall'immergerti, dal saturarti in questa realtà che crei dentro di te, in contatto con la tua persona, in un piacevole contatto. Questa è una potente pratica di visualizzazione e sentizione, entrambe le cose, che ti aiuta incredibilmente a entrare nella dimensione di realtà, dove questo è già così. Creation is finished, la creazione è già pronta. E più ti saturi in questo stato, più velocemente questa realtà si concretizza in fatto per te. Easy, semplice. Seconda cosa, abbiniamo delle affermazioni specifiche. Le affermazioni sono potenti, ti ricordo, la mia guida completa. Sulle affermazioni per la tua soddisfazione istantanea le affronta tutte e ti dice esattamente come fare, comprese le affermazioni robotiche, e funzionano quando sai usarle correttamente. Le affermazioni sono un modo fantastico, è quello che continui a dirti nella tua testa. Tipo, se ti stai dicendo quello che viene detto in questi video non funziona, è un'affermazione, è manifesta per te. Invece funziona. Quello che ti dico funziona. Più guardi questi video, più funziona. Più metti mi piace a questi video, più funziona per te. Le affermazioni sono un modo fantabombastico, sono i tuoi pensieri per riprogrammarti in continuazione. Quello che dici si riproduce. Quello che fai qui dentro si manifesta fuori, quello che fai qui dentro si manifesta fuori, quello che dici si manifesta fuori. Riprogrammi in continuazione il tuo sistema mind-body, il tuo sistema mente-corpo, mind-body-spirit, e quindi proietti quello che vuoi vedere. Vecchio modo di dire, attrai quello che desideri. Ti torna indietro quello che fai, per tre. Vuole dire che viene magnificato. Quello che fai, quello che dai, ti torna indietro per tre. Per tre significa che ti torna indietro iper, molte volte di più di quello che hai lanciato, come un boomerang. O in modo, come dire, karma. Karma in sanscrito significa atto immaginale. Kerman è il termine in sanscrito, che significa kerman, creare. Crea affermazioni, cioè pensieri, pissi, incentrati sull'idea di un contatto costante dalla mia persona. Ricevo costantemente chiamate, messaggi, bellissimi messaggi pantabombastici, bellissimi vocali della mia persona specifica. In continuazione e ripetizione, la mia persona specifica mi manda sempre tantissimi cuori, messaggi significativi d'amore, affetto e ogni bene possibile. Ogni giorno la mia persona mi raggiunge con amore e affetto, la sento continuamente, costantemente. Siamo sempre in contatto. Ripeti questi pensieri, metti in loop queste affermazioni ogni giorno, ogni minuto, con convinzione, con autorità, con decisione. oppure semplicemente il tututum 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 tututum. Come il tuo nuovo naturale chiacchiericcio mentale o affermazione robotica. Ti osserva quello che accade, fai un esperimento. Osserva la magia accadere per te. Tre. Gratitudine per quello che hai fatto dentro di te, non per lo stato suo, per quello che hai fatto dentro di te, il focus è sull'atto immaginale e scocchi la freccia, lo lasci andare, lo lasci in modo che posso, lanci il boomerang, lanci il tuo atto immaginale in modo che posso tornarti per tre ed esprimi gratitudine per l'atto immaginale che fai ogni secondo, con ogni tua frase, con ogni tuo respiro. Gratitudine per questi video, gratitudine per le leggi di assunzione, gratitudine per il fatto che respiri se in vita puoi funzionare, gratitudine per l'amore e la connessione che già condividi ora con la tua persona specifica. È un modo potente per manifestare ancora di più di quello su cui ti stai focalizzando con l'atto di gratitudine. Gratitudine è anche un atto di potenza, un atto di affermazione. Riconosci tutti i momenti di contatto che hai già vissuto e che stai creando dentro di te e lancia il tuo dardo. Lasciare andare attaccamento, paura, lascia andare tutte le vecchie storie, tutto quello che non è. No, crei il respiro, crei lo spazio affinché il tuo ologramma ti rifletta indietro quello che stai lanciando fuori. E quindi, ok, ora brevemente voglio toccare al nostro entusiasmante programma, la nostra masterclass. Saluto tutti i corsisti di Incantesimo. Crea e mantieni la tua partnership, perfetto è un programma che ti guida attraverso tecniche potenti, esercizi, strategie pratiche per stabilizzazione emozionale, evitarti lo spiraling, andare alla vera, reale radice della questione al tuo perché più alto in modo più profondo e creare la più bella relazione significativa della tua vita. Ricevi chiamate, messaggi, 24-7, 7 giorni su 7 dalla tua persona e porta la tua manifestazione al nuovo livello che vuoi. Per iscriverti è facile, basta andare qui sotto nel link in descrizione e ottieni l'accesso immediato. Le iscrizioni sono ancora attive e ho un programma progettato per aiutarti a manifestare l'amore e la connessione che desideri, quindi agisci subito, non perdere altro tempo. Io intervengo all'interno del sito dove sono ospitati oltre 31 video, approfondimenti e quant'altro per domande specifiche in qui e lì perché c'è un'intera sezione dedicata alle domande e risposte in tempo diretto sulla base di ciascun giorno della Masterclass. Clicca qui sotto nel box in descrizione. Ti auguro tantissimo amore e connessione per questo 2024 le tue persone specifiche fai un check anche a tutti gli altri servizi, programmi, prodotti disponibili a TV Ora. C'è ancora una promo in corso al Meetup Prize fino al 31 gennaio 2024. Fai un check qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacio da Elena e dal mio studio a Roma per oggi. And that's all folks for today. Ciao ciao!